Una città e un territorio grande mezza regione da ricostruire significa anche ripartire da zero su tutta l'urbanizzazione, servizi, energia elettrica, acqua, fognature, il centro storico dell'Aquila e tutti i centri abitati del cratere vanno ricostruiti a partire dai sottoservizi danneggiati quanto se non più degli edifici e altrettanto essenziali per tornare a vivere i luoghi della vita. È un grande obiettivo che vedrà impegnata per i prossimi anni fra gli altri la Gran Sasso Acqua, società capitale pubblico che gestisce le risorse idriche di 36 comuni del comprensorio aquilano tutti ricompresi nel cratere. Un contributo di 5 milioni di euro erogato dalla protezione civile ha aiutato a superare le difficoltà economiche legate al brusco calo di fatturato a seguito del terremoto ma sufficienti a coprire i soli costi di gestione. Tutto ciò che riguarda il terremoto è un aspetto infrastrutturale che necessariamente deve trovare un contributo straordinario. Di fatto c'è l'unità di missione che sta lavorando coordinata dal professor Fontana e ci ha chiesto una serie di relazioni per verificare soprattutto nella città dell'Aquila poi vale anche per i comuni del cratere più colpiti che noi andiamo a gestire per verificare appunto le esigenze di rinnovamento della rete idrica e fognale. È chiaro che questo deve trovare un contributo che va al di là di 5 milioni di euro come ben potete comprendere. E intanto con la graduale riduzione della zona rossa riaprono zone del centro dell'Aquila meno danneggiate dove i cittadini si apprestano a tornare a vivere ma non prima di aver ripristinato tutti i servizi necessari. Desidererebbe trovare un sistema in base al quale di volta in volta che si va a riaprire una zona del centro storico dove ci sono edifici agibili si possa fare una valutazione da parte del comune una richiesta al commissario per la ricostruzione. Noi siamo disponibili visti che abbiamo il contributo quindi un po' di liquidità ad anticipare ma di fatto ci deve essere rendicontato e rimborsato in una fase successiva che non può andare a gravare sul bilancio ordinario della società per azione.